Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul canale. Oggi vi presentiamo un wargame, quindi per ora lasciamo un attimino da parte boardgame, e vi presentiamo un wargame ambientato nel vecchio West, però più rivisto in chiave Steampunk, questa volta vi presentiamo Wild West Exodus. Il gioco è di proprietà della Warcraddle Studios e della Wayland Games, che tra l'altro ringraziamo veramente di cuore per averci fornito questo starter set di base. Quello che vedete qui è un set di base, quindi che comprende due bande per iniziare a giocare da subito, più carte evento, carte avventura, segnalini, dadi e tutto quello che serve per giocare, ed è un set di base che potete comprare direttamente dal loro sito che trovate nei link in descrizione, quindi mi raccomando andate a vedere. In questo set di base, il cui nome è Gunfight at Red Oak, è un set che comprende due bande che sono criminali, capitanati da Jesse James, perché in questo gioco hanno messo, hanno fatto un'ambientazione West in futuristica, ma rimettendoci gli antenati, insomma, dei pistoleri, divenute leggende del West, e invece dalla parte degli uomini di legge, degli sceriffi o comunque degli uomini della polizia e delle forze armate, ci sono gli Herp e Doc Holliday. Apriamo la scatola e vediamo cosa c'è all'interno. No, guardate bellino tra l'altro come hanno fatto la scatola, che sembra un'antica scatola di sigari del West in legno, e tra l'altro col marchio Wild West Exodus. Tra l'altro, molto bellino questo volantino all'interno, che oltre a fare vedere uno dei personaggi presenti all'interno del gioco, ci sono anche vari indirizzi internet per andare sul loro sito, con delle guide anche per l'assemblaggio e altre cose. Insomma, è una cosa molto carina tutti i loro social che trovate poi qui in fondo. E come tutti i wargame che si rispettano, le miniature arrivano smontate, e dovete montarvele una per uno, dovete impazzire, dovete penare, anche perché qui vedete la moto, questa qui è divisa in varie parti, però alla fin fine è anche il modo più bello e divertizio. Quelle dei wargame no, ma ogni giocatore di Warhammer e dei wargame adora montarsene da solo nelle posizioni che preferisce, quindi bene che sia così. Tra la roba imbustata all'interno ci sono le basi su cui attaccare le vostre miniature, sia quelle piccole che quelle con la mount. Guardate qui il mazzo di carte che sembra quello dalla mano del morto rubato direttamente a Wild Bill Eacock. Guardate che figata. In questo mazzo di carte ci sono sia le carte azione, perché questo gioco è una figata, non funziona classica l'hawarhammer, si misura la distanza, si tirano i dadi e si guarda cosa succede, ma ci sono anche le carte azione che dovete affidare ai vostri personaggi, quindi è una specie di partita a poker fra due o più bande ed è una cosa, secondo me, una figata assurda. E qui dentro ci sono non solo le carte azione, ma anche le carte avventura. Le carte dei personaggi, o per chi come voi sta, come me, scusate, sta adorando Red Dead Redemption 2, le posse, quindi le bande, e questa è la banda di Tombstone, che vedete qui, il personaggio che è rispecchiato è il mitico Wyatt Earp. E queste qui sono le schede dei personaggi. I dadi da usare nel gioco, tra l'altro bellina anche la colorazione rossa sfumata un pochino nera. Il misuratore per armi potenti, come quelle che ci sono sulle mount metallizzate, tipo lanciafiamme e cose del genere. Questa è la classica goccia che avete visto anche in Warhammer, ovvero per misurare la distanza dello sparo e del lanciafiamme. Il manuale di gioco da ben 142 pagine, alla faccia Rocaz. E per ultimo, ma non meno importante, segnalini, segnalini condizione, più misuratore per le gittate, per vedere le distanze di fuoco. Allora, partiamo subito col dire che Wild West Exodus è un gioco di schermaglie, quindi un gioco che si avvicina molto da vicino a un, forse, Warhammer no, perché Warhammer vede eserciti scontrarsi, qui sono più pedine singole. Però se vi ricordate Confrontation dell'epoca, ecco, Wild West Exodus ci si avvicina veramente molto. Nel gioco abbiamo due tipi di mazzi, che ovviamente andranno divisi per i giocatori che ci saranno in campo. Ci sono alcune regole che dicono che si possono mettere in campo anche più di due giocatori, quindi tre, quattro player. Però comunque nel 99% dei casi il gioco è per due, quindi una fazione che va a combattere l'altra. In questo caso la fazione dei Lomen, ovvero la fazione degli sceriffi di Tombstone, qui rappresentati da Doc Holliday, e la fazione degli Otlow, ovvero dei criminali, che sono rappresentati qui al momento da, non è un personaggio speciale, ma un'unità che vi faremo vedere poi nel corso della partita. Nel gioco vi sono due tipi di mazzi, che questo è per tutti i giocatori, quindi questo sarà un mazzo unico messo sul tavolo, mischiato ogni volta quando finirà con la sua parte di scarto accanto, questo è un mazzo che non andrà diviso fra i giocatori, ma sarà messo a disposizione di tutti. Invece quest'altro, che è il mazzo dell'avventure, cioè le carte avventura, che vi daranno degli obiettivi partita e turno per turno di gioco, questi invece andranno divisi fra i vari giocatori e pescati ogni volta, affinché un giocatore abbia la sua mano di carte. Girando la carta del mazzo, delle azioni, avremo scritto in alto un numero, che vedete in questo caso è il 48, e un numero che invece c'è al centro, un 5. Vorrà dire che per ogni azione che il mio personaggio speciale o la mia truppa faranno, potranno fare 5 azioni per ogni loro puntazione e in più questa carta vale 48, perché all'inizio di ogni turno di gioco bisogna pescare una carta per ciascun giocatore, quindi mettiamo caso che un giocatore ha pescato la 48, questo qui, il giocatore successivo ha pescato la 47, quello con il numero più alto avrà l'iniziativa. Facciamo caso che l'iniziativa ce l'ha il giocatore che va a interpretare la legge di Thomson, quindi il primo a muoversi sarà Doc Holliday. Nel caso della carta di Doc Holliday, vedete che questa è una carta con scritto unico. Unico vuol dire che questo è un personaggio speciale, quindi non ne potrete avere più di uno nel vostro esercito. Poi il simbolo, vabbè il nome del personaggio ovviamente, sotto tutti quanti i tratti scritti, tutti i tratti che potete leggere nel manuale, il simbolo della fazione, quindi dell'omen, gli uomini di legge, il costo della truppa, Doc Holliday per essere messo in campo costa 175 monete, 175 scusate punti, più tutte quante, vedete qui nel simbolo dei 6 colpi della pistola, ci sono tutte quante le sue caratteristiche, che vanno dalla Q, che è Quick, il movimento, e qui c'è scritto 5, quindi vorrà dire che questo personaggio si muoverà di 5 pollici sul campo col metrino, quindi quando dovete andarlo a muovere, sapete, leggendo la caratteristica principale in alto alla Q, che lui si muoverà da 1 a 5 pollici. Poi ovviamente ci sono altre caratteristiche che vanno, ad esempio F è la sua percentuale, il suo valore di combattimento in corpo a corpo, A è il suo valore invece di aim, di mira, quindi lui è uno dei personaggi più forti del gioco perché notoriamente Doc Holliday nel West era bravissima a sparare, e ogni risultato va sempre tirato contro una difficoltà di 10, quindi prendete sempre come difficoltà da superare per un check di prova, o per un check per attaccare un altro personaggio, il dado da 10 e dopo averlo tirato andate a sommare il valore dell'abilità del vostro personaggio, quindi nel caso di uno sparo Doc avrà già 8, quindi le basterà tirare un 2 o più sul dado per avere raggiunto il 10 e quindi colpito il bersaglio. Ovviamente ci saranno vari modificatori che possono andare da una figura coperta dietro una parete, nascosta dietro un pozzo, e lì la difficoltà potrebbe incrementare, ma mai abbassarsi. E raggiunto il risultato di 10, il nemico è stato colpito, se non ci sono modificatori. Un risultato di 10, che è segnato da questo simbolino qui, questo sarebbe lo 0, un risultato di 10 sul tiro di dado è un sempre colpito, sempre, anche se la difficoltà fosse più alta di 10 è automaticamente colpito, quindi un successo immediato, mentre il simbolino del teschio sarà sempre un fallimento critico, quindi anche se ce l'avreste fatta solo con punti del personaggio, avete fallito il check. La G invece è il valore resistenza del personaggio, quindi Doc Holliday ha un valore di resistenza di 5. Doc Holliday ha un'arma da corpo a corpo, un'arma da distanza e una seconda arma da distanza, e sulla carta il primo valore è sempre il range dell'arma, quindi una da corpo a corpo, niente, dovete essere a contatto di miniature, una a 6, una a 10, sempre in pollici col metrino che vi ho fatto vedere prima, il valore di piercing dell'arma, quindi quanto andate a togliere al valore di resistenza del personaggio che li sparate, quindi se nel caso lui sparasse con un piercing di meno 1 a un personaggio che ha il suo stesso valore di resistenza, questo scalerebbe a 4, praticamente alla penetrazione dei proiettili dell'arma. Questo gioco è particolare perché quando andrete a costruire la vostra posse, ovvero perché giocate a Red Dead la vostra banda di gioco, potete fare due cose, che secondo me forse è questo che rende il gioco veramente carino. Per i giocatori che vogliono usare soltanto personaggi speciali, questa carta la scartate e non la usate nemmeno. Uno potrebbe dire io in campo voglio Wyatt Earp, Doc Holliday e Virgil Earp, voglio tutti quanti personaggi speciali. Ovviamente costano più punti delle truppe normali perché sono immensamente più forti, però lo potete fare tranquillamente. Immaginatevi su Warhammer che scegliete di fare un esercito solo con campioni e personaggi speciali, senza truppe. Se invece sceglierete di avere una posse e quindi di avere, che ne so, al comando Doc Holliday, al comando di questa posse, però volete mettergli degli uomini di legge dietro che lo seguono, di vice sceriffi o comunque uomini di legge, qui c'è la scheda riassuntiva per che tipi di uomini potete prendere. Come vedete lui può avere fino a sei uomini, quelli di Tom Stone, possono avere sei uomini di legge, sei gregari che lo seguono e praticamente sulla carta ci sono scritte regole speciali per il costo che avranno, che dovrete vedere sulla carta della truppa, ma non solo, anche le regole che potranno avere per essere ingaggiati. Quindi qui c'è scritto tutto quanto se vi volete fare non una banda di soli e puri personaggi speciali, ma anche appunto gregari che seguono il personaggio principale ed è molto carino. Sulla carta di Doc Holliday è segnato L3, vuol dire limit, il numero di azioni che Doc Holliday può fare in quel turno. Di solito i personaggi ne hanno due, Doc Holliday essendo un personaggio particolarmente forte in questa ambientazione, però costa anche tanti punti, ne ha tre. Quindi cosa vuol dire? Che dovrò pescare tre carte per vedere appunto quanti numero di action point avrà per le sue azioni, quindi per queste tre azioni. Io vado a pescare le tre carte, che sono queste qui, che andranno pescate turno per turno, non le pescate tutte insieme, andranno pescate ogni volta che il personaggio deve comprare una delle sue azioni. Quindi per la prima azione io ho fino a cinque punti da spendere, che ora vi dico ovviamente come possano essere spesi, per la seconda azione ne avrò quattro e per la terza azione ne avrò ancora quattro. Regola del gioco dice che movimento, sparare e attacco in corpo a corpo richiedono un punto azione, quindi io con una carta da cinque potrei fare anche diverse volte la stessa azione, con limitare, perché se no un personaggio sparerebbe veramente troppi colpi e attaccherebbe troppo, il gioco finirebbe nel giro di un turno, con la limitazione che fare due o più volte la stessa azione nello stesso turno, quindi nello stesso punto azione che stiamo andando a sprecare, costerà il doppio. Quindi la prima azione, facciamo caso che Doc voglia sparare un'altra figura, gli costerà un'azione, questo da cinque scala a quattro. Se volesse riattaccare gli costerà due punti, quindi ne avrà usati tre su cinque e con l'attacco successivo ne avrà usati altri due, quindi andrà a completare tutto quanto la sua azione e dovrà passare il turno all'altro giocatore, al rivale. Ogni personaggio all'inizio del turno pesca una carta, che è una carta della missione, che si divide in Glory and Guts. Come vi ho fatto vedere all'inizio, in alto a sinistra hanno il punto, ma questo è un punteggio che dovete vedere soltanto all'inizio quando la pescate per sapere chi ha l'iniziativa. Glory è una missione che quindi vi dirà che cosa fare e se riuscirete a superare questa missione prenderete dei punti Gloria, perché il gioco è vinto dagli giocatori che hanno più punti Gloria, dal giocatore che ha più punti Gloria. Quindi se dopo 8 turni, come dice l'avventura, perché il gioco viene fatto comunque da avventure precise e confezionate sul manuale, per quanto sono ancora delle regole sullo skirmish, il giocatore che avrà per primo a 5 o 10 punti Gloria avrà vinto la partita. Avendo questa carta in mano, io potrei dire Ok, mi serve Gloria per vincere la partita, quindi cerco di fare in questo turno l'obiettivo che qui è scritto, oppure potrei fare Guts, che non devo fare niente, non devo fare nessuna azione, completare nessuna quest. Uso questa carta, la brucio, me la scarto, quindi non prendo punti Gloria, però mi dà un punto azione in più, un action point. E adesso ragazzi, nell'ultima parte, vi presentiamo lo scenario di gioco, ma oserei dire il piccolo diorama, perché poi è tutto perché è lo scenario di gioco, perché è bellissimo, e la piccola opera d'arte che ha fatto mia moglie, ragazzi, ci ha lavorato un mese, è fatta tutta quanta in legno, lei non usa cartone. Gliel'ho detto 100.000 volte, fallo in cartone, che lo trovi anche a bidoni, si fa prima, non ne ha voluto sapere, ma ovviamente il risultato si vede perché è vero legno. Guardate che spettacolo, addirittura ci ha fatto la ruota, il carretto, il pozzo, vabbè, ci ha messo un alberello piccolino, vegetazione, ha messo il cartello dello sceriffo, questa qui è la casetta dello sceriffo, l'ufficio dello sceriffo, una scaletta rotta, ovviamente a noi ci garbano i panorami diroccati, distrutti, avrebbe potuto farlo benissimo, nuovo e lindo, appena costruito, ma noi ci garbano i panorami diroccati, distrutti, un po' come la casa di Sam Raimi, e insomma ha fatto questo scenario appunto per non solo fare qualcosa di bellino, ma per farlo vedere all'interno del video, che poi ci vorrò dedicare anche un video a parte su queste cose, però l'ha fatto anche per avere un piccolo scenario dove giocare a Wild West Exodus. Non c'è bisogno ragazzi che vi spieghi tutte le regole, anche perché va sicuro un gioco skirmish molto facile, per quanto quando vi arriva questo manuale a casa, di ben 120 pagine, uno si mette subito paura perché vede questo malloppone qui immenso da leggere, e dice a me ma per un gioco skirmish in stile confrontation c'è così tanta roba da leggere, le prime 20-25 pagine esagerando 30 sono il regolamento del gioco, il resto sono tutte quante, avventure, lore e ambientazione, quindi non vi preoccupate. Mi sembrava difficile anche a me come gioco ma invece è molto più semplice di quello che sembra, e poi c'è il misuratore, le unità imperiali di Warhammer per farvi capire, il misuratore in distanza e un'arma di base in questo gioco può attirare a distanza 5-10, ci sono anche armi come quella della moto che vedete qui che tirano a distanza 15, ragazzi una distanza 15 già vedendo la misura capite bene che se non tira in tutto il tavolo da gioco poco ci manca, quindi nella maggior parte dei casi in questo gioco le armi arriveranno sempre a colpire. Comunque il gioco è tutto lì, ve l'ho detto vedete il valore di aim del personaggio, se il personaggio quest'altro il bersaglio è coperto andiamo a vedere la copertura che ha, o magari il tratto speciale all'abilità, guardiamo il valore di copertura, quanto le dà in più all'armatura o meno al dado da attirare e facciamo le somme, che ne so potrebbe alzare la difficoltà di colpire di Doc. Comunque nel caso Doc fosse sulla porta e il personaggio qui, il nemico qui, andiamo a misurare se entro la distanza per sparare con la pistola, adesso hai 6 o 10 con la seconda arma, quindi Doc è in distanza, vi ricordate che ha 8 a mirare, quindi prendiamo, tiriamo il dado, io ho fatto col dado un 7, il mio risultato è 7, 7 più 8 di Doc vado oltre il 10 che dovrei fare per colpire, quindi il personaggio è colpito. Una volta che il bersaglio è stato colpito, prendiamo la carta del bersaglio, questo vi ricordo non è un personaggio speciale ma è una truppa, infatti vedete che è una truppa degli outlaw, dei criminali, però il valore è praticamente meno della metà di quello di Doc Holliday e una volta che il personaggio, la miniatura è stata bersagliata e colpita, dobbiamo andare a fare un check sempre su 10, tutti i check sono su 10, sul suo valore di grit, come vi dicevo, la resistenza fisica, quindi in questo caso 5. Io prendo il dado, tiro e ho fatto un fallimento critico. Facendo un fallimento critico o comunque un risultato che non mi faccia arrivare almeno 10 a 10 o più, il personaggio sarebbe ferito e un personaggio ferito almeno che non abbia tratti o abilità speciali che lo rendono più resistente, lo rendono fortunato, lo rendono magari un personaggio anche semplicemente più robusto o più inattaccabile dalla morte stessa è rimosso dal tabellino di gioco, quindi in questo caso il personaggio sulla moto che non ha abilità speciali che vadano a contrastare la ferita che ha subito perché chiunque in questo gioco, come vi ho detto, tratti a parte ha una ferita o tiri salvezza particolari, lui è stato ferito ed è rimosso dalla partita perché ha fallito il check dell'esistenza naturale contro il colpo della pistola di Doc, quindi in quel caso è rimosso dalla partita. Il gioco finisce come sempre, come tutti i giochi del mondo, in due casi, quando una delle due bande non ha più pedine, quindi non c'è più pedine in campo, ha automaticamente perso la partita, o quando a seconda dell'avventura vengono raggiunti, come vi ho detto, i punti gloria, quando viene scelta una carta e pescando quella carta viene scelto se utilizzare, fare la missione per prendere il punto gloria, che è la osa da fare, secondo me assolutamente, o usare il guts e quindi bruciare e scattare questa carta per dare un'azione aggiuntiva al vostro personaggio o altre cose, quindi conviene anche un po' dal momento. Ragazzi, in conclusione, secondo me Wild West Exodus è un prodotto decisamente valido, è un prodotto per tutti gli amanti di giochi skirmish, detto sinceramente come sempre, l'ambientazione a me non piace, è bella, perché se devo dire la verità è molto carismatica, perché abbiamo tutti quanti i lati oscuri di un West fantasy, quindi che ne so, licantropi, abbiamo anche una componente aliena di cui non vi svelerò nulla perché è bellino, dovete vederla direttamente alla storia sul manuale, abbiamo il criminale, abbiamo gli uomini di legge, ed è bello vedere questo West portato con tutte le sue leggende in un futuro decisamente steampunk, che è carino rivedere magari Jesse James, rivedere Billy the Kid, Wyatt Earp e tutti questi personaggi qui, però insomma, l'avrei preferito ambientato nel West normale, detto sinceramente. Per me il gioco è valido, è un gioco divertente, è un gioco veloce, è un gioco dove si è andata ad acquistare il Gunfight at Red Hawk, che praticamente è il set che ci hanno mandato, io ringrazio di cuore ancora una volta, la World Credo Studios, grazie ragazzi per averci ne mandato una copia, è un set di partenza da una quarantina di euro che vi dà la bellezza di 8-10 miniature e più le carte, le carte azione e tutto quanto, lo scenario purtroppo non c'è, se ne volete uno dovete sentire mia moglie, però ci avete già tutto quanto pronte, due mini pos per giocare varie avventure, il manuale che vi farà creare tante situazioni secondo me molto particolari ed evocative. Il gioco ci sta, gli do voto 6,5 su 10, ma non perché il gioco in sé per sé non sia carismatico o niente, delle regole non ci ho visto grandissime novità, sono sincero, rispetto a tanti giochi del passato, però questo è anche un lato positivo, un pregio, perché non c'ho da ristudiare un nuovo regolamento, quando ho letto il regolamento di questo ho detto, cavolo, mi sembra di essere tornato a giocare a confrontazione, quindi saltavo intere pagine e le regole già mi erano entrate in testa perché le avevo giocate da una vita. Lato per me, per me, quindi per un altro potrebbe essere invece che un 6, potrei un 6,5 potrei dargli un 6,5, 7 ad esempio, perché a me l'ambientazione me lo fa calare di metà punto, a me purtroppo personalmente il genere steampunk o western un po' fantasy non piace, il fantasy lo vedo bene in altre ambientazioni, nel Giappone feudale o altre cose, però non nel west, a me non piace. Assolutamente ve lo consiglio, quindi se cercate un nuovo tipo di gioco da fare, un wargame da fare skirmish con gli amici, secondo me Wild West Exodus è perfetto e vi divertirete molto, 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 fidatevi. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i nostri link, abbiamo aperto anche il sito dove tutti i giorni facciamo recensioni, articoli sui boardgame, quindi seguitelo, novità, kickstarter, quant'altro, quindi se siete appassionati di boardgame assolutamente iscrivetevi, ricordatevi abbiamo anche Instagram e la pagina Facebook, quindi se ci volete continuare a seguire in questo progetto, in descrizione ci avete tutto. Ragazzi, assolutamente valido e accattatevelo. Ciao, alla prossima.